Ogni cosa che puoi immaginare la natura l'ha già creata. Lei mi indica al momento giusto, un tempo indeterminato nel quale qualcosa di speciale accade. Natura estetica è il primo corso di aggiornamento dedicato alle professioniste della bellezza di oggi e di domani. È nato per loro, per rispondere con competenza ed efficacia alle esigenze di una clientela sempre più preparata, ma anche sempre più confusa da troppe informazioni, troppo spesso approssimative. Natura estetica è il primo corso di formazione continua capace di creare un ponte tra la naturopatia e l'estetica professionale. Un programma di lavoro originale con contenuti pratici ed efficaci che fornisce sia metodiche uniche da applicare in cabina, sia indicazioni semplici e concrete da consigliare alle proprie clienti per diventare il loro punto di riferimento in quello che oggi chiamiamo stile di vita. E non in ultimo per intervenire efficacemente sugli inestetismi in modo seriamente personalizzato e a 360 gradi. Un'esperienza di formazione unica, intensa, sensoriale, per vedere le cose senza guardarle solamente, perché la bellezza in fondo è dire io ti vedo.